ben trovate cari amici di trucco finalmente un nuovo video un po di giorni che non giravo però oggi è venerdì sta finendo la settimana la giornata comunque ancora in evolversi ed è piena ancora di altre attività però ci accingiamo al weekend insomma via di rilassatezza e voglio iniziare a rilassarmi facendo quattro chiacchiere con voi su temi che mi sono tanto cari no non vi parlo di libri in questo video anche se ovviamente torneranno i video sui libri ma parliamo di accessori lo sapete ce lo sapete chi chi guarda più spesso i miei video sicuramente saprà che mi piacciono un po con gli accessori e quindi questo video lo voglio dedicare a questa tematica dunque punto e a cavo in qualche video passato vi avevo già preannunciato che mi era arrivata una proposta di collaborazione che molto probabilmente avrei accettato allora la proposta di collaborazione mi è arrivata dal marchio analisa che è un marchio americano che produce bijoux bijoux di ottimissima qualità con prezzi accessibili e con un ottimo rapporto qualità prezzo perché i bijoux sono realizzati a mano realizzati con materiali diciamo pregiati con oro comunque riciclato quindi c'è anche un discorso di eco sostenibilità che non ci dispiace affatto e comunque hanno un design molto semplice molto raffinato molto elegante di quello che va tanto adesso che comunque piace un po a tutte e che è sicuramente anche molto versatile perché quando i gioiellini sono fini delicati li possiamo abbinare a qualsiasi look e in qualsiasi insomma indossarli in qualsiasi occasione io oggi per esempio ho messi un semplicissimo lupetto nero di tè zenis ma vanno bene vanno bene con qualsiasi look lo sapete io diciamo ho questo stile molto molto casual molto tranquillo però insomma si abbinano un po a tutti i look e i gioielli che io ho scelto sono questi poi vi farò vedere altre cose allora ovviamente prima mi scordo perché devo fare le cose fatte bene non sono abituata a fare questo perché questo è ovviamente un messaggio promozionale hashtag ad quindi prima che mi scordo tutto quello che voglio dirvi sappiate che trovate tutte le informazioni ve le lascio nell'info box quindi i gioielli che ho scelto il codice sconto il sito tutte le altre informazioni del caso che io intanto vi ho anticipato così per darvi un'idea della tipologia d'azienda e della tipologia di prodotti che propone allora poi andiamo nello specifico che cosa ho scelto allora il sito devo dire che è fatto molto bene c'è un'ampia scelta di bijoux ovviamente orecchini bracciali anelli e collane io ho preferito scegliere delle collane perché comunque di orecchini sono pieni anelli ho visto che c'è tutta la scheda per andare a scegliere la misura però non lo so io ho le mani molto piccole quindi anche di anelli ve li ho fatti vedere anche negli ultimi video ne ho presi tanti di pandora comunque tanti di altri marchi e quindi ho preferito evitare bracciali idem perché tanto metto sempre gli stessi le collane un pochino devo dire che ero un po' sotto scorta come dire no c'era bisogno di rimpinguare un po' su quel settore lì e quindi vanno quest'anno vanno tutte queste collanine molto fini molto sottili molto delicate e vanno principalmente le multifilo allora io ho scelto i nomi ovviamente adesso con il mio alzheimer galoppante non ricordo i nomi ogni gioiello è identificato con un nome ovviamente io ve li lascerò tutti scritti sia come si chiama questo set che l'altro che poi vi farò vedere questo qui si compone di queste due collane ovviamente poi si può indossare anche separatamente ovviamente questo mi piace tantissimo è in oro giallo ovviamente placcato oro giallo ha la medaglietta tonda così con la stellina e un brillantino al centro e poi scelto e insieme veniva con questa qui che ha la collana con tutte le palline adoro questa questa tipologia di collana qui con questa luna e così la volevo da un sacco di tempo con la lunetta così rigida però non so se è una lunetta un cornetto però insomma mi piace tanto è pieno e vi assicuro che è pesante pesante gestibile non che da fastidio e mi piace proprio tanto ecco semplicemente abbinato con delle perline piccoline io dopo mi metto sopra un giacchettino di jeans perché comunque c'è il sole le temperature sono scese però comunque c'è il sole e mi piace tanto sono lucidissimi vengono inviati con questa scatolina qui a cassettino e ogni gioiellino poi sta dentro alla sua pochettina io li conservo qua dentro e mi ci trovo bene poi anche quando arrivo arrivano devo dire che sono confezionati alla perfezione la spedizione velocissima e sopra un certo importo è gratuita a me sono arrivati in meno di una settimana ogni collanina arriva così e qui dietro viene inserita tutto il resto della lunghezza e poi viene dato in dotazione anche questa bustina con il pannetto per lucidarsi e va sicuro io ho fatto il confronto con altre cosine tipo quelle di H&M cioè la qualità è nettamente superiore quindi costano sicuramente un pelo di più rispetto ai bijoux che trovate nelle catene H&M, Zara e compagnia cantante però la qualità c'è veramente vi faccio vedere poi l'altro set che ho scelto che si compone sempre di diverse collanine anzi magari lo indosso si lo indosso così lo vedete meglio allora eccolo qua questo è composto da tre collanine adesso vi avvicino per cercare di farvela vedere meglio c'è questa piccina che ha tipo una madonnina ma anche dietro ha insomma è comunque serigrafata questa una pietruzza nera ed è fatta come quell'altra con i pallini sulla catena questa è una catena un pochino più particolare e ha questo disegno qui insomma carine io le sto mettendo tutti i giorni ma sinceramente anche da sole tipo da sola questa così ho spesso messo questa nera perché mi piace ecco su una maglia nera che va a richiamare ton su ton insomma mi piacciono molto e poi comunque vi faccio vedere anche le chiusurine questa per esempio è fatta così c'è a me sembrano proprio l'idea che mi hanno dato è proprio di bijou di gioielleria insomma ben lontani da quelli che vi faccio vedere anche bene questa qui di prima è fatta proprio bene qui intorno a tutta questa ecco forse così si vede meglio vedete a queste decorazioni qui con tutti i pallini insomma sono sono molto ricercati rimangono comunque belli lucidi si vede che sono di qualità per questo ho accettato sinceramente insomma non mi piace accettare lo sapete nelle cose che fa vedere mezzo mondo di youtube né tantomeno un po le le cosettine insomma di scarsa qualità queste invece le trovo veramente troppo contenta insomma poi veramente mi mancavano non le avevo mi piace molto come come stile bene quindi vi ripeto tutte le informazioni le trovate giusto spero di essere stata esplicativa senza essere ridondante non sono sinceramente non sono abituata a fare questo tipo di video però lo faccio con piacere nel senso che mi piace proporre appunto cosine di di qualità e so che piacciono che so che piacciono anche a voi potrebbero piacere si avvicina natale idee regalo insomma o comunque un bell'auto regalo perché siamo sempre tanto buone e regali ce li meritiamo allora quindi ripeto tutto in infobox arrivederci grazie ringrazio sara la ragazza che mi ha ha contattato perché è stata veramente carina mi ha detto divertiti a girare il video mi è piaciuto questo questo approccio questo lasciarmi molto tranquilla mi ha detto go indossali goditeli questi gioielli dice spero che te li che potrai goderli che riuscirei a goderteli al di là del video ma nella tua vita normale questa cosa mi è proprio piaciuta poi un'altra cosa che mi godo tantissimo nella mia vita normale anche questa ve l'avevo fatta vedere in una in un video precedente e niente ve la volevo far vedere meglio perché borse gioielli ma quale connubio cioè migliore di questo allora la borsa è di coccinelle io l'ho presa all'outlet allora facciamo un breve disclaimer borse allora premesso che come già detto ad inizio video io sono una patita si gioielli anche le borse a me da sempre piacciono tantissimo cerco di acquistare ho sempre cercato cioè è difficile che compro borsettine così da poco se lo faccio è perché magari voglio un cambio in più o perché mi servono per determinate occasioni per esempio mi viene in mente l'ultima borsa low cost che ho acquistato l'ho presa da zara ve l'avevo fatta anche vedere in qualche video precedente l'avevo pagata una ventina di euro carina nera giusta la dimensione molto pratica da indossare certo si vedeva che non era una sicuramente una borsa di pregio però mi serviva un qualcosina da mettere quando vado alle prove del coro perché proviamo in una stanzina molto piccola siamo tutti molto costipati cioè molto stretti così tutti chic to chic e quindi odio poggiare la borsa per terra se c'è una cosa che mi da fai io questa non la c'è io le borse neanche in casa mia le poggio per terra quindi è proprio una costrizione che mi devo fare e quindi vabbè mi prendo una borsina nera così da mettere tutti i giorni comoda e quando vado lì anche se la poggio per terra più di tanto non mi dà fastidio in effetti quella pure se è tutta un po rovinata sugli angoli però io ci faccio le stagioni intere perché sinceramente non non sto lì a cambiare sempre borsa non sono una di quelle a oggi mi verso così ci abbino questa borsa io vado avanti con la stessa borsa per mesi 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 e infatti cerco sempre borse che diciamo con un design molto versatile con un colore anche versatile anche se questo è un pochino più particolare però devo dire che come colore però devo dire che a me piacciono le borse con un colore anche vibrante perché comunque soprattutto l'inverno io mi verso con colori molto neutri quindi un pop di colore ci sta benissimo e quindi detto ciò insomma quando posso cerco di prendere delle borse buone ovvio non dai prezzi spropositati diciamo che rimango sempre sotto sempre sotto ai 150 euro magari una borsa l'anno se si può se si riesce ecco e quindi outlet e quindi outlet cucinelle mi piacciono da tra le borse insomma un pochino più pregiate tra i marchi che ho potuto provare sicuramente cucinelle rientra tra i miei preferiti perché ha un'ottima qualità cioè a livello di pellame un pellame veramente veramente resistente poi vi farò proprio un video dedicato alle mie borse cucinelle perché per esempio c'è un modello che ho comprato lo scorso anno no forse due anni fa sempre in outlet che è piaciuta talmente tanto a mia mamma che l'ho accompagnata e se l'è presa anche lei di un altro colore e lei per esempio è una che non cambia mai borsa o comunque soprattutto la cambia magari il sabato e la domenica quando va alle sue occasioni mondane ma per tutti i giorni per le sue per le sue commissioni la spesa i suoi giretti così usa sempre la stessa finché non la distrugge infatti aveva una borsa che gli avevo dato io di ed h&m che ho comprato sempre anni fa a 10 euro ce l'avevo così dico mamma prenditi sta borsa e usa questa l'aveva distrutta si è presa quest'altra di cucinelle beh vi dico che lei poi di solito per tutti i giorni non è che usa borse pregiate invece stavolta ha detto no io la voglio usare perché tante volte abbiamo questa fissa di non usare le cose buone altrimenti si rovinano però alla fine quelle cose ci seppelliranno perché durano più di noi quindi questo per dirvi che sono mesi che si è presa pure lei quella borsa che la sta usando la usa tutti i giorni non si è rovinata per nulla me l'ha detto dice guarda veramente una borsa buona perché non è che ho tutto questo riguardo però praticamente è come nuova il pellame veramente non si è rovinato per niente di solito magari anche agli angoletti in basso un pochino si consuma quindi vabbè parliamo di questa mi trovavo all'outlet perché mio marito doveva fare degli acquisti per sé ovviamente io passo davanti a quel negozio di cucina e non resisto e lui mi fa dai entra dai 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 faccio il mio giro faccio la mia ronda mio marito avverte flavio dice stai buono alle creature perché flavio soprattutto si scoccia nei negozi lo vedi lì che non ti dice niente però fa un po la faccia si annoia ovviamente a 13 anni comincia veramente a scocciarsi infatti non ci andiamo mai per negozi ma in realtà mi sono scocciata anch'io di andare per negozi salvo quando veramente serve qualcosa e insomma mio marito gli fa stai calmo perché il momento della scelta della borsa è un momento veramente intenso mamma ha bisogno della massima concentrazione quindi cerchiamo di non disturbarla perché è una sorta di parto perché io devo concentrare mi devo concentrare nella ricerca del modello che più me gusta al prezzo che più me gusta quindi con l'offerta migliore no e vi dico che quel giorno giravo 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 però non c'era niente più che altro nonostante i salvi era nel periodo dei saldi estivi nonostante i salvi fossero abbastanza vantaggiosi però comunque i prezzi salivano ma prima ad uscire ho voluto fare un'altra ronda perché c'è sempre qualcosa che vi sfogge mi cade l'occhio su lei che da un prezzo di mi pare 3 3 c intorno ai 3 350 euro era super scontata a 89 euro e non ha potuto lasciarla lì mio marito dai prenditela insomma visto il periodo terribile che ho passato iper stressante che ho passato quest'estate vi dico che veramente è stato un amore ma riempito di regali di attenzioni e questo rientra in quello lui lo sa che io impazzisco per le borse quindi mi fa morire quando stiamo in macchina io sto come le picchette rimango la cintura rimango questa borsetta così lui mi fa guarda non la molla non la molla no l'hai tratto troppo bene poi ci passo il mio prodotto anche da cucina ho comprato un prodotto proprio per per trattare la pelle e insomma mi piace va bene la vediamo un po più a fondo sta borsa con ste chiacchiere e logorroica che sono allora che cosa mi è piaciuto di questa borsa anzitutto il colore è una sorta di cilieggia ma violaceo mi piace anche la pelle martellata anche se solitamente preferisco il trattamento c'è la pelle tipo saffiano però mi piace molto comunque una pelle molto spessa e molto morbida mi è piaciuto questo questo design così con le borchette questa chiusura che ha una calamita ma poi si apre così e siccome è praticamente una borsa zainetto vi assicuro che anche una chiusura che piuttosto sicura nel senso che così non è non è semplice aprirla se insomma non sia la tecnica giusta e a zainetto così però la tracolla può essere staccata può essere messa cioè praticamente le tracolline possono essere messa a tracolla di modo che si indossa proprio come una borsa normale vi dico la verità io la porto sempre a zainetto ma spesso e volentieri la indosso così a spalla con tutte le due cinghiette mi cade proprio non mi alzo perché sennò faccio cadere tutto insomma mi rimane così a spalla ed è comodissima perché anche quando sono che ne so a fare la spesa di solito la metto così o comunque non posso in cui non tanto mi fido del circondario la metto così apro e prendo le mie cose quindi ve l'ho detto 89 euro l'ho pagato che non è poco però è una borsa praticamente indistruttibile e chiunque me la vede mi fa sempre i complimenti perché è veramente bella coccinelle ha veramente un design semplice però sempre molto ricercato e comunque è un design che si adatta sia alle signore di una certa età ma anche a una signora giovane e una giovane signorina come me che vuole essere sempre così fresca e pimpante pare vero allora ho scelto questa con le vabbè c'era no che ho scelto questa c'era solo questa era l'ultimo pezzo e mi sono presa questa vi voglio far vedere anzitutto un accessorio sempre legato al mondo bag che sempre mi ha regalato mio marito e vi faccio anche vedere come l'ho organizzata dentro perché allora se c'è un diciamo allora come dirvi per me le borse anzitutto devono essere pratiche una borsa per me può essere bella quanto volete però se non è pratica io poi alla fine non la metto questa è della forma che piace a me perché mi piacciono queste così un po rettangolari di modo che quando le apro ho la visione su tutto quello che ho dentro non mi piacciono più borse troppo grosse anche se non ho mai portate gigantesche questa media grandezza per me è l'ideale vi faccio vedere quello che ho dentro che poi alla fine è quello che ritengo essenziale per me non è che porto mille cose non ho mai portato troppe troppe cose sinceramente quando c'entrano determinate cose che ritengo utili quando sono fuori casa va bene così allora dentro come è fatta è in tessuto e ovviamente ha una taschina qui con la cernierina e poi alle classiche due taschine così aperte ovviamente io non ci metto il non ci metto il cellulare ma ci metto gli 8000 rossetti che mi porto in giro quindi un po di rossetti gloss labello e vabbè sono prodotti che già vi ho fatto vedere rivedere quindi saltiamo il giro di qua ho invece delle cose che mi sa che devo buttare una bustina di zucchero me l'avrà messa mio marito boh poi ho dei biglietti da visita dei ristorantini in Umbria e questo sempre in Umbria dove siamo stati questa estate i biglietti delle fonti del cliturno che se non ci sono state un posto incantevole in cui vi consiglio di andare e poi c'è un rossetto che è una new entry è uno di questi nuovi di essence io avevo preso di questa nuova linea gli smalti ve li avevo fatti vedere e in quello stesso video una gentile fanciulla mi ha detto fede fatto molto male a non prendere anche i rossetti perché sono strepitosi e quindi io due volte da allora mi sono trovata davanti ad uno stand essence e al secondo tentativo sono riuscita a trovare questo superstite dico superstite perché praticamente questi rossetti sono andati secondo me proprio a ruba nel senso della prima volta non c'era niente a parte di colori per me inadatti al secondo giro l'unico che ho trovato adatto a me è questo nude qui non troppo che ho chiesto di poi nude comunque presenti è un bel mix tra il malva e il marroncino e la texture è molto molto bella nel senso che è un satinato quindi io non lo uso senza matita perché si disegna benissimo il contorno e rimane lì fermo non sborda resiste anche molto bene anche se mangiate o bevete qualcosina insomma io l'ho messo sono andata ad una festa di una bimba con viola ho mangiato giusto la torta e bevuto mezzo bicchiere di coca cola è rimasto lì sia un po seccato qui al centro non era perfettissimo però sempre un rossetto che costa 2 euro e 39 poi immancabili fazzoletti poi sempre il mio fedele porta rossetto preso da tiger a 10 mila anni fa e dentro c'è il captive porto sempre un rossetto di solito quello che indosso oggi però non l'ho messo quello che indosso c'è rimasto quello di ieri uno scontrino anche questo lo buttiamo salviettine queste detergenti non mancano mai poi qui ho questa pochettina che ho preso qui c'era uno specchiettino che era uscito in una collezione limitata di ma che è umida questa pochettina di kiko e ci metto gli auricolari che porto sempre con me poi quest'altra pochetta anche questa ce l'ho sempre sempre in borsa vi faccio vedere velocemente senza andare poi a perdere troppo tempo anche perché sono cose che anche in altri video penso di avervi fatto vedere qualcosa allora in questa borsa adesso vi faccio vedere l'oggetto magico vabbè ho tesserine documento di identità ho la cremina mani ho l'oggetto per le cuticole ho questo prodottino immancabile di perché ne ho due mi sono sbagliata vabbè questo prodottino qui di clarenne ho lo specchiettino qualche profumino così di questi piccolini tesserine varie cerotti e moment e basta hai le salvaggiettine a sorbi sebo che porto sempre con me alla fine non uso mai l'oggetto magico è questo guardate che figo dovinate che cos'è questo praticamente è un porta borse da tavolo un oggetto che io desideravo da tempo e memore perché quando si va a mangiare fuori da qualche parte io sempre memore del fatto che la borsa non mi piace buttarla per terra anzi la svuotiamo tutta poi la riempio non mi piace lasciarla per terra e quindi non so sempre o me la lascio qui dietro alla schiena però poi sto scomoda insomma sempre un casino e quindi da un sacco di tempo cercavo un oggetto simile viola me ne aveva trovato uno dai cinesi però siccome le mie borsette si non è che ci metto tanta roba vabbè è di quelli ripieghevoli che si trova anche su si anche su amazon dai cinesi si trovano però quello va bene se avete proprio una borsa che non pesa meno di zero quindi quando me l'ha comprato l'ho usato due tre volte se è rotto alla fine mio marito ha trovato questo su amazon è del marchio alessi l'ho pagato 16 euro mi sembra l'ho presa a forma di micio sembra ingombrante ma io alla fine lo tengo sempre dentro a questa pochette anche questo ha il suo peso però vabbè niente di insomma che infastidisce però va sicuro regge benissimo cioè questo non gli succede niente quindi quelle volte che ci troviamo fuori per il pasto ebbene a me me lo metto vicino io sono malfidata non mi fido di nessuno devo avere tutto sotto mano quindi proprio a fianco a me non mi dà fastidio la borsa ce l'ho lì a portata di mano è fighissimo quindi questo è un oggetto che vi consiglio è anche questo un oggetto per fare un regalo secondo me è carino poi ovviamente immancabili i miei amici fidati allora io non solo porto il cobo ma porto anche cartaceo non mi basta tutta la biblioteca che ha sul cobo allora il cobo me lo sono sistemato dentro a questa pochette che è un set avevo trovato un set di chico c'era un rossetto con una matita abbinata tipo un kit regalo per natale che ho preso con i saldi successivi e pagato veramente due lire e mi va perfetto per contenere il mio bel cobbino fedelissimo che ovviamente porto sempre con me e adesso siccome stavo leggendo un carta di solito è che se capita che io comunque mi porti il cartaceo adesso stavo leggendo questo libro qui e questa casa editrice praticamente non non escono gli ebook esistono solo i cartaci e quindi è comunque molto bello è un autore che volevo leggere da tanto tempo Wendell Berry i primi viaggi di Andy Catlett Catlett ed è un libro di quelli che che ti che ti solleticano il cuore con ricordi nostalgici perché parla del viaggio di questo bambino che fa da 9 anni fa questo viaggio per le feste natalizie va da solo con l'autobus a trovare i suoi nonni quindi c'è proprio il sapore delle cose passate che non esistono più con una diciamo malinconica consapevolezza del fatto che il progresso purtroppo ci porta via tante di quelle cose che un tempo esistevano che rendevano speciali le nostre le le esistenze di quel tempo io per fortuna ho dei ricordi legati appunto alla mia infanzia legati ai miei nonni legati ai paeselli dei miei genitori paeselli piccolini dei miei genitori dove trascorrevo l'estati ed è un piacere me lo sto proprio gustando in mezzo matitina ovviamente perché devo sottolineare tutto è veramente una coccola e lo trovo anche un libro che fa scendere le lacrime perché perché si parla di ricordi perché si parla di persone che sono state presenti nella vita che hanno segnato tanto hanno contribuito sostanzialmente alla formazione della persona che è diventato perché con un contesto biografico e che purtroppo non non esistono più non esistono più quelle persone e tutte quelle quelle piccole cose legate a loro e bello quindi ve lo consiglio questo è tutto ah vabbè poi il portafoglietto è un portafoglietto piccolino questo è di piquadro piquadro è un altro marchio che mi piace tanto però devo dire che la pelle è molto oddio mi aveva preso un colpo di andare a prendere viola è molto meno resistente quindi ho qualche borsa una di sicuro però alcune l'ho dovute buttare perché con l'utilizzo mi si sono veramente rovinate stessa cosa l'ha appurata la mia mamma quindi tutto a posto il rossetto ci sta quindi non lo riapplico e me ne vado a prendere la figliola faccio un salto a prendere due cose questa è uscita un poi è tabù mi sento un po mi riccio vado a prendere due cose al supermercato e sicuramente devo prendere il latte prendo gli auricolari così ascolto la musica musica ragazzi hanno risolto la questione diritti lucio gli eredi di lucio battisti e mogol quindi finalmente su spotify sono disponibili sui brani oddio ho sporcato qualcosa con rossetto sono disponibili sui brani e io mi sto praticamente letteralmente drogando per me battisti io sono una ecco anche con la musica molto molto nostalgica mi piace ascoltare a volte penso di essere di vivere in una in un'epoca che non è la mia perché quello che provo sentendo quelle le canzoni di un'altra epoca veramente mi scendono le lacrime ieri ho pubblicato anche un post dedicato a lui ed è carino quando insomma come abbiamo interagito tra noi su ognuna insomma si è emozionata citando i suoi pezzi preferiti di lucio per me lui come altri pochi cantautori italiani per esempio io se sento claudio baglioni che poi mi piaceva tanto da ragazza no ormai lo trovo passato ma ecco lucio oppure francesco di gregori cioè quando sento la leva calcistica del 68 68 58 scusate o la donna cannone mi si stringe proprio a me scendono le lacrime le sento un loop quest'estate mentre eravamo in umbria stavamo in un ristorante la sera e in sottofondo aveva messo tutte le canzoni di cantatorato italiano ma quello di qualità quindi appunto di gregori dalla battiato io poi vabbia adoro mina per me mina è cielo nel cuore la canto da una vita e continuerò a farlo finché morte non ci separi e niente ragazzi io la borsa ce l'ho pronta adesso mi metto il giacchetto di jeans e con i miei bei gioielli vado a fare il mio figurone al supermercato piccino del paese quindi passo e chiudo vi mando un bacione immenso ci vediamo al prossimo video che fate questo weekend beh ecco pure questa come vi dico che chiacchiera che ho io ho troppo bisogno di chiacchierare allora questa settimana mi è sfuggito di far video però ne volevo fare uno dedicato al weekend precedente mi piace parlarvi appunto di eventi o diciamo come investo il mio tempo libero con la famiglia che cosa facciamo insomma il weekend passato è stato tutto all'insegna di Quentin Tarantino quindi Flavio due giorni non è andata a scuola perché c'era la festa del patrono del paese anche a lui ho fatto vedere qualche film me li sono rivisti tutti mi manca solo Django siamo andati al cinema a vedere l'ultimo di Quarantino all'Italia che lo chiamo Quarantino di Tarantino c'era una volta da Hollywood è stato meraviglioso io sono stata tutto il tempo con gli occhi cuoricino è un film che non tutti hanno apprezzato perché è diciamo una tipologia particolare io l'ho trovata una splendida lettera d'amore da Tarantino al cinema e i protagonisti cioè meraviglioso vabbè Leonardo Di Caprio